La prima volta del Consiglio Episcopale Permanente dei Vescovi Italiani in videoconferenza e senza il Presidente perché il Cardinale Gualtiero Bassetti, numero uno della CEI, è stato trasferito in terapia intensiva dopo il contagio da Covid-19. Si è svolta così in collegamento video la sessione straordinaria del Consiglio, durante la quale i presuli si sono confrontati sulla situazione legata alla pandemia, alla sua progressiva diffusione in Italia e al ruolo che la Chiesa può svolgere per fronteggiare la crisi.